Nella semifinale d'andata di Coppa Italia, la Juventus riesce a pareggiare a San Siro contro il Milan, il match grazie ad un rigore trasformato da Cristiano Ronaldo allo scadere e proprio sul penalty il tecnico bianconero Maurizio Sarri si è espresso così. Lei si sente avvantaggiato dall'arbitro? No, perché mi sembrava anche il rigore gomita sulla faccia di Quadrado dieci minuti prima. Piale ha detto che prima del rigore c'era un fallo di Ibra, oltre poi il rigore che era stato spiegato che un episodio simile non era stato rischiato. Il rigore, mi dovresti fare due domande nettamente separate, il rigore o le norme attuali è clamoroso, il braccio è staccato dal colpo, un tiro in porta a dire, quindi con le norme attuali il rigore è clamoroso, se poi mi chiedi se a me personalmente mi piacciono le norme attuali ti dico di no, però non è che se a me non piace una legge vado a delinquere perché la ritengo ingiusta, purtroppo le norme attuali sono queste, con le norme attuali ve le rigore tutta la vita. Io non so completamente d'accordo, però sono queste. Non cala l'interesse del Barcellona verso Lautaro Martinez, secondo il media spagnolo Mundo Deportivo l'attenzione della società blaugrana è rivolta solo all'attaccante dell'Inter, individuato come tassello ideale per il calciomercato estivo e sostituto potenziale di Suarez. Un colpo progettato per la prossima sessione estiva di calciomercato in cui il Barcellona dovrà mettere in conto un pesante sborso dal punto di vista economico per il Toro. La dirigenza però con Erika Bidal avrebbe confidato di voler fare un nuovo tentativo per riportare Neymar nel club spagnolo. Intensifica nel ricorso all'onfield review del Bar nei casi controversi che rientrano nell'ambito del protocollo internazionale. È questa l'esigenza che il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, ha condiviso col designatore arbitrale di Serie A Nicola Rizzoli per non alimentare polemiche strumentali che intacchino l'immagine del nostro campionato che si appresta ad entrare nella fase cruciale della sozione. Questa indicazione è stata già trasferita ai direttori di gara, sottolinea una nota della FGC. L'Italia è stata uno dei primi paesi al mondo a sperimentare la tecnologia nel calcio. L'adozione del Bar da parte dell'IFAB infatti è stata preceduta da un periodo di prova offline nel massimo campionato italiano che ha generato risultati eccezionali, contribuendo in maniera determinante all'implementazione del protocollo definitivo. Animata dallo stesso desiderio di innovare con il medesimo spirito di servizio dell'epoca, la FGC si è fatta interprete delle richieste prevenute nelle ultime settimane da numerose società di Serie A ed ha anticipato informalmente alla FIFA la propria disponibilità a sperimentare l'utilizzo del challenge nei tempi e nei modi che l'IFAB eventualmente stabilirà. La Federcalcio è convinta che, continuando il percorso già intrapeso, si possa portare il calcio in una dimensione sempre più vicina ai milioni di appassionati senza intaccare l'autorevolezza dell'arbitro, bensì fornendo gli strumenti concreti di ausilio. L'Olimpico si riempie ancora in attesa del big match tra Lazio ed Inter di domenica sera. I tagliandi a disposizione sono in via di esaurimento, come spiegato da Marco Canigiani, responsabile e marketing della società biancoceleste che ha fatto il punto ai microfoni di Lazio Style Channel. Discreta disponibilità in tribuna Montemario, quasi nulla invece in curva sud, record di presenze, siamo molto vicini al dato del match contro la Juventus. Al momento i biglietti venduti sono meno, ma in più ci sono gli abbonati della seconda fase. Sul filo di lana capiremo se le presenze saranno state superiori, potrebbero anche superarle. Dunque, ultime ore per accaperarsi un posto, mancano tre giorni ad una sfida dal sapore di tricolore.